Franco, parliamo un po' di calcio. Tu sei il tifoso del Napoli, giusto? Eh, Napoli... Napoli ha grande talento, no? È come un po'... Higuain, amo Higuain, amo Amsic che secondo me non se ne andrà mai più. Però vorrei qualcosa di meglio. Cioè, vorrei due acquisti fighi, questo è il mio invito. Forse l'Europa League mi piacerebbe, sarebbe bello. Il campionato ormai... Cioè, la Juve è troppo forte, per cui... Poi Pogba della Juve se ne andrà all'estero, ma al Napoli mi piacerebbe tantissimo. Però ci sono anche foto di quando eri piccolo con la maglia dell'Inter. Non è che salta fuori che ieri è il risultato, il gol di campo. No, 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 no. La maglia dell'Inter mi ha costretto mio zio a metterla. Non te lo giuro che non c'entro niente. Sono tifoso napoletano. Diciamo che forse quella era una fase di confusione quando mi hai visto con la maglia dell'Inter. Poi ho visto la luce dopo il tunnel e c'era il Napoli. C'è qualcuno invece del Napoli attuale a cui diresti di no se venisse a Italia's Got Talent? A Italia's Got Talent a cui direi di no? Dai, no, è offensivo. Direi di sì quasi a tutti. Ci stanno dei giocatori che mi piacciono un po' di meno, ma no, no, no. Darei piuttosto il Golden Buzz a Higuain e a Damsic, quello sicuro. A proposito di scherzi, tu sei uno specialista. C'è un giocatore Napoli, un'idea di scherzo che potresti fare? Beh, magari. Sì, però adesso non ce l'ho in mente, altrimenti l'avrei già scritto e fatto. Però farei assolutamente uno scherzo. A De Laurentiis pure non sarebbe male.